Realisti sì, in un paese come il nostro in cui abbiamo un tasso di giovani laureati che è la metà di quello dei paesi più forti europei è pazzesco, semplicemente pazzesco e in una situazione di questo genere gli iscritti all'università diminuiscono quindi non solo siamo in una situazione già disastrosa ma la stiamo peggiorando quindi è necessario ovviamente investire nell'università, investire in ricerche, investire in diritto allo studio perché se i giovani non vanno all'università non è perché non vogliano studiare è che non hanno i mezzi ormai per andare a studiare quindi o cambia radicalmente la politica di questo paese, la priorità assoluta diventa ricerca, innovazione, studio, diritto allo studio oppure l'Italia è destinata al di là delle chiacchiere, delle prosopopee, delle scurfonerie a essere il fanalino di coda dell'Europa, dietro addirittura la Spagna, il Portogallo, la Grecia